Si apre con una doppietta della Casillo Petroli Firenze o Pla il ritorno su strada del ciclismo Under 23 2020. Nella crono scalata da Barberino al Passo della Futa in onore del sessantesimo anniversario del successo alla tour di Gastone Nencini, il giovane Alessandro Verre precede il compagno di squadra Edoardo Francesco Faresina di 4 secondi. In terza posizione staccato di 17 secondi il portacolori della Mastro Marco senza inibali Alessio Nieri. Non si poteva iniziare alla meglio sia per me che per tutta la squadra. Dopo questi mesi difficili credo che a casa anche abbiamo lavorato molto bene con la squadra e noi singolarmente da soli e niente sono molto soddisfatto di aver ricominciato con questo passo la stagione spero che possa continuare nel migliore dei modi.